I carabinieri della compagnia di Locri hanno arrestato 5 persone di età compresa tra i 18 e 45 anni, appartenenti tutte al medesimo nucleo familiare, accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di ripetuti furti in abitazioni, strutture pubbliche e private e di ricettazione. Sono stati i propri ripetuti furti in abitazioni private a far scattare l'allarme, tanto da convincere i carabinieri di Bovalino ad indagare su quella che poi si è rivelata essere una vera e propria organizzazione con base logistica proprio nel comune Regino, che agiva di notte utilizzando autovetture con targhe rubate e quindi non riconducibili a nessuno degli indagati e che prendeva di mira abitazioni solo cosenalmente abitate o attività commerciali e imprenditoriali, all'interno delle quali si introducevano forzando le porte d'ingresso. Spesso, prima di effettuare il colpo, erano soliti effettuare ripetute ricognizioni dei luoghi in modo da non avere sorprese. La merce rubata veniva successivamente messa in vendita anche tramite la pubblicazione di annunci su noti siti di e-commerce o ricettata anche attraverso il convolgimento e la partecipazione di un minore di 18 anni. Una volta identificati, grazie alle telecamere di solverianza, le perquisizioni all'interno delle rispettive abitazioni hanno permesso di trovare e quindi sequestrare i vari strumenti da scasso e i capi di vestiario indossati nei vari episodi di furto. Dei cinque soggetti colpiti dal provvedimento cautelare, tre sono stati imposti agli arresti domiciliari, uno all'obbligo di firma e uno è stato collocato in una struttura ministeriale per minorenni, in quanto aveva meno di 18 anni all'epoca dei reati.